Ci troviamo alla Lonati Anglo American School e siamo in compagnia di Letizia che saluto. Ciao e grazie per aver accolto l'invito di Ultima Bozza. Siamo qui con te perché ti chiediamo di raccontarci un importante progetto a cui hai preso parte. Tema è l'ambiente e ti chiedo quindi di raccontarci di questo progetto in cui hai vinto la finale italiana della World Robot Olympiad e rappresenterai il nostro paese a Panama per il progetto SALPA. Ti va di raccontarci in cosa consiste questo progetto e come si è sviluppato, come si è evoluto? Allora il nostro progetto si chiama SALPA e consiste nel raccogliere le microplastiche dal mare con un nastro trasportatore che gira in senso anti-orario e raccoglie le microplastiche dal mare. Le porti in un container che è sopra una nave cargo e quando il container però è pieno c'è un sensore che lo vede e quindi si ferma tutto. Alla fine del tragetto della nave cargo il container si svuota, si ricicla la plastica e quando la nave cargo torna dove deve andare si inizia tutto. E come dicevo prima il progetto si chiama SALPA, ti va di raccontarci come è nato questo nome? SALPA perché è una medusa del mare e abbiamo creato un acronimo che è Save Animals Let Plastic Go Away. E parlando di ambiente e delle nostre acque ti chiedo Letizia quanto è importante agire in questo momento? È perché adesso in questo momento c'è molta plastica e molto inquinamento nel mare quindi noi vorremmo un attimo migliorare l'ambiente. E invece ti chiedo per ultimo quale messaggio desideri e desiderate trasmettere perché siete un team, siete un gruppo per tutelare l'ambiente che ci circonda e soprattutto che ci ospita. Allora la mia squadra si chiama Virtual Blue e siamo io, Federico e Alessandro e il nostro messaggio vuole essere di smettere di inquinare e un po' amare più l'ambiente. Grazie Letizia per averci raccontato di questo importante progetto che possiamo dire essere un simbolo per la sfida che guarda al futuro. Grazie a tutti.